Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori scarpe da box. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 delle migliori scarpe da box. Quindi cominciamo con le scarpe da box Leone. Iniziamo questa top con uno dei marchi più famosi nel mercato dei sport da combattimento con il marchio Leone. È uno dei marchi di box più antichi al mondo ed è un marchio italiano che produce la maggior parte dei suoi prodotti in Italia. Ecco un modello perfetto di scarpe da box che offre un ottimo rapporto qualità prezzo. È una scarpa leggera e traspirante perfetta per allenarsi per molte ore nella box senza soffrire i piedi. Naturalmente la scarpa è traspirante quindi in modo che possa essere ventilata per mantenere il comfort. Forniscono un buon sostegno ai piedi e sono molto confortevoli. Poi troviamo le scarpe da box adidas passiamo a un altro grande marchio noto al grande pubblico per essere uno dei migliori marchi sportivi del mondo in generale. Che si tratti di calcio, montagna, nuoto eccetera adidas offre sempre prodotti di altissima qualità. È il caso di queste scarpe da box molto comode, resistenti e durevoli. La gomma è molto confortevole e permette di allenarsi in modo molto comodo. È bene sapere che al momento dell'acquisto sono disponibili diversi colori. E per finire ecco le scarpe da box Venom. E per concludere ecco un altro grande marchio famoso con Venom. Venom è un marchio francese specializzato in Muay Thai MMA. Inoltre sostituirà Reebok come sponsor ufficiale dell'UFC e dimostrazione dell'alta qualità del marchio. Ma anche nella box la qualità è eccellente con scarpe comode e resistenti. Questa scarpa offre un sostegno davvero eccellente quando si combatte in modo da non perdere l'equilibrio. Inoltre i colori disponibili sono numerosi e di grande effetto come spesso accade con Venom. Ecco grazie per aver seguito questa top 3, spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.